La curva epidemiologica in Sardegna continua a muoversi a ridosso dello zero. Oggi infatti si è registrato solo un nuovo caso nella città metropolitana di Cagliari che fa salire il totale dall'inizio dell'emergenza a 1.354 casi, un numero che comprende le 887 persone guarite, 40 in più rispetto all'ultimo aggiornamento e le 126 decedute. I soggetti positivi nell'isola sono 341, di questi 9 in terapia intensiva, 71 ricoverati con sintomi, 261 in isolamento domiciliare, ormai oltre due terzi delle persone colpite da Covid è guarita, dati che si riflettono sull'R.com.t, l'indice di contagio che a livello regionale si è dimezzato in una settimana passando dallo 0,48 allo 0,24, ben al di sotto i limiti fissati dalla regione con lo 0,50 per riavviare le attività economiche e sociali. L'epidemia in Sardegna è sotto controllo da settimane e anche il pericolo di una crescita di casi in seguito all'apertura del 4 maggio al momento sembra scongiurato, ma questo non significa che tutto sia finito, anzi, con l'avvio della fase 2.0 di ieri il numero di lavoratori e di persone in giro per via e negozi è aumentato, ma questo fatto deve far accrescere il livello di attenzione da parte dei cittadini che si devono attenere scrupolosamente all'enorme distanziamento sociale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi e nelle occasioni in cui sono obbligatori. Di fatto è iniziata una fase di convivenza col virus che andrà avanti per diversi mesi, almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino. La Sardegna si appresta a riaprire porti e aeroporti anche per tentare di agganciare i flussi turistici e far ripartire l'economia, ma serviranno giudizio e prudenza e rigorosi controlli sanitari in entrata e uscita per evitare una ripartenza dell'epidemia che sarebbe fatale per l'economia e la vita sociale dell'isola.